Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e brevissimo video Volevo semplicemente dirvi, annunciarvi che il secondo torneo fra YugiTubers è inizio Allora in totale siamo, anzi siete, 11 Non sono riuscito a trovare altri giocatori Causa mancanza di organizzazioni in questi ultimi giorni E vabbè, un po' che si torna a scuola, chi è tornato a lavoro, un po' la vita normale Vabbè, è comprensibile Allora, questo è il post di Facebook che ho pubblicato Allora qui sono gli abbinamenti per lunedì Il torneo inizia come leggete qui lunedì 7 settembre 2015 Vabbè scontato E entro le 2, le 3 del pomeriggio dovrete inviarmi le decklist Ok? Poi qui notate sesta carta e priorità Allora, che cos'è questa sesta carta? Allora, come nei vecchi formati Anche se inizierete per primi Pescherete ugualmente la sesta carta Quindi non pescherete soltanto 5 carte ma anche la sesta A priorità invece, non so se riuscirò a spiegarvela bene Comunque sia, vi faccio un esempio Allora, evoco BLS Ok? L'hoppo chain a bottomless Io posso chainare l'effetto di BLS di bannare un mostro sul terreno Quindi mi auguro di essermi fatto capire E vabbè Questo Un'altra cosa che mi sono dimenticato di chiedervi È quello di lasciarmi il vostro nick di Dueling Network Allora, preferirei che lo lasciaste qui sotto nei commenti Della foto Facebook Qui quindi nei abbinamenti Però se vi dà fastidio Potete benissimo contentarmi in privato Anche su Facebook Sulla pagina O su Youtube E scrivermi il nick Oppure scriverlo qui sotto nei commenti del video Così che poi io Mi possa pubblicare sulla pagina Facebook Ovviamente soltanto i nick Per rispettare la privacy Penso di aver detto tutto al riguardo Essendo 11 Uno vincerà a tavolino ogni turno In questo caso Bonesman Quindi GG LOL E niente Se avete qualche altra domanda Scrivetevi sotto nei commenti Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Seguitemi su Facebook E buona fortuna a tutti i partecipanti